Una vittoria importante in una partita giocata con grande intensità per tutti i 40 minuti, mi riferisco soprattutto all'intensità difensiva che ci ha accompagnato per tutti i 40 minuti e soprattutto la cosa che più mi è piaciuta è il fatto di non essersi disuniti quando in attacco non riuscivamo a far canestro nonostante abbiamo costruito dei buoni tiri davanti a una squadra di grande qualità come è Cremona che è certamente una squadra non facile da difendere. Quindi direi che questo è un segnale importante, venivamo da una settimana di buon lavoro, una vittoria importante, adesso dobbiamo continuare su questa linea, continuando a giocare duro in difesa perché credo sia un elemento fondamentale soprattutto quando, ripeto, magari non si fa canestro, è un periodo che non si fa canestro. Mi è piaciuta molto la disponibilità dei giocatori a passarsi la palla, testimonianza ne sono i 24 assist e è un contributo importante da parte di tutti anche chi magari è stato impiegato meno.